Mentre invece questo signore che si chiama Antonio Olivieri e viene da Manfredonia, guardate cosa ha inventato, cos'è questo? Io lo chiamerei Flipper, l'ho costruito per me, proprio per tenere in allenamento i riflessi. Allora, ci facciamo una prova, poi ne fa una massimo? Il gioco consiste proprio a tenere i riflessi, ci vuole l'abilità a tenere la pallina sempre in equilibrio, in equilibrio sulla bilancina, in modo che la uno la sgancia qui. Poi lui la lancia qua dentro, la palla poi si... Nel frattempo mette in azione l'altro motorino e mi prepara l'altra sfera lì. Ok, per questo scopo è far arrivare tre palle qua. Vuoi fare una prova? Io? Sì. Ci provo, lui mi ha un po' insegnato, ma non è facile. Allora, io partire, via. Lascio ogni tanto quello. Ogni tanto devo lasciare, riprendi. E riprendi. Bravo. Lascio. Bravo, bravo. Lascio e riprendi, va bene. Bravo. Vai. Ecco. E' stato capace, Massimo. Sono stato capace, l'ho fatto. Perché hai inventato questa cosa? Questa è veramente una delle tante sculture che ho in movimento. C'è una decina. Hanno fatti pari? Però questo l'ho fatto proprio per tenermi in allenamento. Ah, che hai fatto? Allora. Grazie.